Deliberato nell'ultimo Consiglio Comunale di Atri l'adozione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, su tutti la mitigazione del rischio idrogeologico, sicurezza edilizia scolastica e la manutenzione del patrimonio pubblico, senza dimenticare l'illuminazione pubblica e ovviamente il piano asfalti non solo nella città di Atri, ma frazioni come per esempio Tre Ciminiere e Santa Margherita di Atri. L'importo per l'anno 2021 è pari a 14 milioni di euro con contributi ministeriali e regionali. Sono 14 milioni di euro in larga parte dovuti a contributi dello Stato, a contributi regionali, in particolare abbiamo la scuola media Mambelli con la demolizione e ricostruzione che potrebbe anche interessare in questo senso la realizzazione del parcheggio tanto necessario ad Atri, poi circa 4 milioni e mezzo la frana di Casoli, poi ancora il mercato coperto per circa un milione di euro e per globali, come dicevate, 14 milioni di euro. Quindi un piano ricco che unitamente al contributo per gli illuminati cerchiamo di cambiare il volto di alcune zone e di alcuni quartieri della città da un lato e dall'altro soprattutto di mettere in sicurezza diverse porzioni di territorio, dato che Atri comunque ha, come è noto, delle forti problematiche in termini di discesso idrogeologico. Addirittura dobbiamo pensare che è stato eliminato da quei 14 milioni di euro, 4 milioni di euro della realizzazione del commissariato Comcoc e della palazzina Comcoc che partirà proprio a breve, penso entro 15 giorni, perché la gara sinora tutto sta procedendo secondo i tempi. Naturalmente ecco le tempistiche legate alla burocrazia, ma gli uffici stanno lavorando celermente anche con l'impulso del vice sindaco delegato Domenico Felicioni.